Perché l'emergenza al nord e al sud è l'immigrazione incontrollata e il lavoro sono legati. Bloccare questa vera e propria invasione per tutelare e rilanciare il nostro lavoro, cancellando la legge Fornero, riducendo le tasse con una liquota fiscale unica al 20%, semplice, facile, chiara, uguale per tutti e la lanceremo come lega al prossimo congresso, però bloccare questa vera e propria invasione su cui il governo Renzi non fa niente. Sono stato a Catania perché i siciliani non ne possono più, la stagione turistica è a rischio e poi chi sbarca in Sicilia in ogni caso arriva a Verbagna, arriva a Stresa, arriva a Milano, a Via Torino e fa i disastri. Quindi stop all'immigrazione per rilanciare il nostro lavoro.